Buonasera e benvenuti a Speciale Ritiro, nuovo appuntamento, avremo un nuovo collegamento dal quartiere generale giallorosso di Seafield. Questa sera qui con noi c'è il centrale difensivo del Benevento Calcio, Federico Barba. Ciao Federico, buonasera. Buonasera a voi. Allora Federico, come procede questo ritiro in vista della Serie A? No, tutto bene, stiamo lavorando molto e diciamo che il posto è anche ottimo perché ci permette di allenarci bene, non fa tanto caldo e quindi insomma per adesso sono molto contento. È un momento importante della stagione, l'abbiamo ripetuto più volte, è stato così anche l'anno scorso, è un momento in cui si mettono le basi del prossimo campionato. Ecco, il gruppo ovviamente è ben formato perché è quello dell'anno scorso, però si sta rinsaldando quest'unione lì in Austria. Diciamo che insomma veniamo da una stagione fantastica, quindi il gruppo già ha una mentalità forte. È chiaro che sappiamo che avremo difficoltà nuove, però non vedo problemi perché sono tutti dei ragazzi qui che lo sanno, tanti ragazzi anche di esperienza e quindi siamo fiduciosi. Affronterete il massimo campionato italiano, è una categoria che tu conosci, le affrontate in passato, che difficoltà troverete? Siamo comunque una neopromossa, quindi non sarà semplice. Ci sono delle partite che vanno affrontate in maniera diversa, ci saranno magari qualche sconfitta, può capitare anche consecutiva, però per la salvezza poi basterà, anche se sembra poco detto così, qualche risultato consecutivo. Quindi servirà una mentalità importante anche nelle difficoltà e saper reagire. Mentre dal punto di vista personale cosa ti aspetti? No, prima di tutto mi aspetto e spero la salvezza il prima possibile e chiaramente ho grande voglia di contribuire a questo. È chiaro che purtroppo sarà un campionato diverso rispetto al passato perché si partirà tardi, ci sarà il mercato che durerà fino al 5 ottobre, quindi cosa cambierà sotto questo aspetto secondo te? Non lo posso sapere in questo momento. Sarà sicuramente particolare, soprattutto con il mercato più lungo. Sarà una cosa strana, non siamo abituati, abbiamo avuto anche un campionato precedente più lungo, delle vacanze più brevi, quindi sarà particolare per tutti. Noi dal canto nostro dobbiamo solo pensare adesso a lavorare e cercare di partire soprattutto forte, perché già la prima giornata vale 3 punti, quindi alla fine quei 3 punti possono essere fondamentali. Ecco, il 31 agosto ci sarà il Consiglio federale della Serie A, per quanto riguarda la Serie A si deciderà un po' tutto, il calendario, le date. Diciamo che negli ultimi tempi c'è l'ipotesi, soprattutto da parte di Inter e Atalanta, che hanno terminato le coppie europee da poco, di posticipare l'inizio del campionato. Tu cosa ne pensi? Qual è il tuo pensiero? Non cambia molto per quanto ci riguarda. Noi stiamo lavorando per arrivare pronti già alla prima giornata, in caso il 19-20. Se non sarà così, sicuramente avremo una settimana ancora per lavorare che può essere positiva, però non è una cosa fondamentale per noi. Ecco, il Belento sta lavorando sul mercato, sono arrivati anche due colpi in difesa, Glic, Fulon. Innanzitutto ti chiedo che impressione ti hanno fatto questi compagni di reparto? Penso che il direttore stia lavorando bene, si sente quello che vediamo un po' tutti, quindi ha già fatto dei colpi importanti adesso, si stanno adattando bene, questo è un momento importante, ho capito perché ha fatto bene la società a prendere subito anche i giocatori in difesa, perché stiamo lavorando anche tanto su quell'aspetto e i ragazzi si sono messi a disposizione, sono ottimi ragazzi entrambi. State lavorando molto sotto l'aspetto difensivo, ti conosciamo bene, sappiamo che sei un calciatore molto duttile, puoi giocare centrale, anche esterno. Ecco, in questi mesi di preparazione, dove ti sta provando soprattutto Inzaghi, come terzino sinistro o come centrale ovviamente? Stiamo alternando molto, quindi è un periodo in cui bisogna provare, bisogna provare un po' tutto, e bisogna insomma sacrificarsi molto adesso perché poi lo ritroveremo durante la stagione. Ecco, abbiamo parlato ovviamente di Glic, Fulon, mentre Ionita, che impressione ti ha fatto? Ah, è già anche lui, insomma, un altro giocatore che conoscevamo, è un giocatore, insomma, un ottimo giocatore fisico, e penso che insomma ci potrà dare una grande mano. Parlando di te, abbiamo parlato per quanto riguarda la tua esperienza in Serie A, che hai vissuto, abbiamo detto anche in passato, delle tue esperienze estere, c'è qualcosa della tua carriera, magari delle tue esperienze passate, che magari non so, qualche rimpianto, e che quest'anno con il Benevento in Serie A vuoi riscattare? Beh, chi non ha rimpianti, diciamo, quindi sicuramente c'è qualcosa, però penso che bisogna guardare avanti, e direi che questa è una grossa opportunità, anche perché la società ci tiene veramente tanto, e ce lo sta dimostrando, quindi noi tutti siamo molto cari, non solo io, e vogliamo discutere una stagione grandissima. E sembra che sia molto vicino l'arrivo di un nuovo calciatore, il quarto colpo di mercato per il Benevento, che è Gianluca Lapadulo, un attaccante che nel mondo del calcio, soprattutto italiano, si conosce abbastanza bene, un colpo importante, e tu cosa ne pensi? Non lo so, sinceramente non so bene a che punto è, se è veramente così, sinceramente non ne ho proprio idea, però è un buon attaccante, non vorrei neanche parlare sinceramente di qualcuno che fa parte di altre squadre, non mi sembra tanto corretto in questo momento. Il mister Pippo Inzaghi ovviamente conosce benissimo questa categoria, l'ha affrontata da calciatore, vanta anche delle piccole esperienze d'allenatore con il Milan, con il Bologna, vi ha detto qualcosa in merito quando è cominciato il ritiro, come avete approcciato con lui in questa nuova stagione? Lo sa benissimo anche lui che la Serie A ci ha detto che è tutta un'altra cosa, e che dovremmo sicuramente alzare il livello e crescere tutti per raggiungere l'obiettivo. E' cambiato qualcosa nella sua metodologia di lavoro rispetto all'anno scorso? No, stiamo lavorando più o meno come facevamo prima. Mentre ovviamente per quanto riguarda i tifosi, vi seguono con apprezzione, vogliono ovviamente essere vicini a voi, purtroppo non sarà così, almeno inizialmente a causa delle porte chiuse dovute alla pandemia, cosa vuoi dire ai sostenitori giallorossi? No, un ringraziamento per tutti e è un periodo strano e particolare per tutti. Spero veramente che passi presto e che si possa tornare in sicurezza a riempire gli stati per gioire tutti insieme. Bene, grazie mille Federico, buon proseguimento con il ritiro. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Bene, ovviamente proseguo il lavoro del Benevento a Seafield, doppia seduta quest'oggi di allenamento per i giallorossi, il lavoro procede e questi sono gli ultimi giorni di ritiro perché poi il Benevento tornerà la settimana prossima nel Sagno. In agenda c'è l'amichevole del 5 settembre, molto attesa contro la Roma a Trigoria, che è stata anche ufficializzata dal sodalizio capitolino attraverso un comunicato ufficiale. Non ci saranno in quell'occasione Glick e Ionita perché parteciperanno alla National League con le rispettive nazionali, Glick ovviamente con la Polonia, con pagine di cui è anche vicecapitano, e Ionita con la Moldavia. Quindi questi due atleti non giocheranno l'amichevole di Trigoria contro la Roma di Paolo Fonseca. Per quanto riguarda il mercato, il Benevento ovviamente lavora sodo, Pasquale Foggia vuole completare al meglio la rosa il prima possibile, anche se il mercato durerà, come abbiamo detto con Barba, fino al 5 ottobre. Ci sono degli sviluppi per quanto riguarda la Padula, ovviamente si ha i dettagli. Il Benevento ieri, come vi abbiamo anticipato, ha trovato l'accordo con il Genoa, quindi manca solo la firma con l'attaccante che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, entro sabato. Quindi a meno di clamorosi dietro front, la Padula sarà un nuovo attaccante del Benevento. Quindi i giallorossi rafforzano nel migliore dei modi il reparto avanzato, Orfano di Massimo Coda, c'è Moncini che è stato acquistato proprio per la Serie A, un investimento di lunga durata da parte del Benevento fatto a gennaio. E per l'attacco ovviamente si pensa anche a Gervigno, è una trattativa anche questa ben avviata, e il Benevento punta molto su questo calciatore dal sapore internazionale. Gioca nel Parma, però ha un'esperienza importante con la Roma in Italia, con l'Arsenal in Inghilterra, quindi sarebbe davvero un colpo da 90 per i giallorossi. Inzaghi lo stima, potrebbe essere perfetto nel suo gioco e quindi il Benevento continua. Questo pressing per la freccia nera, che, l'abbiamo detto, attualmente milita nel Parma. Mentre il Benevento ovviamente continua anche il pressing per Buonaventura, è un profilo sul quale Foggia punta tantissimo, però ovviamente bisognerà un po' trovare l'accordo con il calciatore, il Benevento ha fatto le sue offerte, adesso si attende soltanto il benestare da parte dell'ex Milan. Bene, per quanto riguarda questa sera è tutto, ci vediamo domani con un nuovo appuntamento, con un speciale ritiro. Buona serata. Buona serata.